Macro categoria imprese, categoria servizi e consulenza. Il premio è quello di eccellenza dell'anno Innovazione e Leadership BIM Technology. Andiamo a leggere la motivazione. Per essere il player di riferimento grazie al suo team internazionale di architetti, ingegneri e professionisti delle tecnologie nelle diverse fasi di progettazione, costruzione e management di interventi nei settori e di lei infrastrutturale. Per essere un leader in grado di puntare su qualità, innovazione e formazione di nuovi talenti. Questo premio va a B1P Group. Tanti elementi di cui parlare, come avete sentito, nella nostra motivazione. Io intanto saluto in collegamento con noi Matteo Proia, CEO di B1P Group. Complimenti, grazie per essere qui. Grazie mille a voi. Matteo, insomma, un commento a caldo prima di tutto. Innanzitutto, i ringraziamenti vanno alla redazione delle fonti che ci hanno valorizzato con questo premio che ci raggiunge inaspettatamente. La nostra è una società di giovani, profondi appunto conoscitori del processo BIM, prevalentemente architetti ed ingegneri che collaborano e supportano società di progettazione o imprese di costruzione in questo nuovo processo che è il processo BIM. Assolutamente. Beh, poi abbiamo sentito parole come innovazione e formazione di nuovi talenti e naturalmente legato a tutte le competenze rispetto alle diverse professionalità appunto. Questo è il punto di partenza anche per il futuro? Esatto. Noi partiamo molto sulla formazione anche rispetto a supporti che diamo ad esempio delle università come la Sapienza di Roma o abbiamo fatto degli interventi anche piuttosto in giro per l'Italia quando era ancora possibile farlo, diciamo. Attualmente supportiamo imprese appunto e grandi società di progettazione fornendo anche la nostra attività di consulenza su cantieri che non sono solamente in Italia, anche fuori, quindi più o meno in tutti i paesi, in tutti i continenti. Questo è sicuramente una grande opportunità, un grande banco di prova per noi e ci rende diciamo anche orgogliosi sia avere appunto dei clienti che piano piano si stanno diciamo fidelizzando sempre di più con noi, clienti nuovi che ci contattano appunto per nuove attività insieme e chiaramente questi premi, diciamo, la valorizzazione dei nostri lavori attraverso appunto dei premi, è sicuramente un fiore all'occhiello che ci mettiamo molto volentieri e non mi metto io ma lo condivido con tutto quanto il team di lavoro sia gli attuali che i precedenti che ci hanno reso quello che siamo adesso. Certo, beh, insomma, potrei anche chiederti prima di salutarti che cosa si prova a essere definiti come abbiamo letto sempre nella nostra motivazione, il player di riferimento, visto che parliamo di un team giovanissimo. Diciamo, noi ci siamo inseriti con queste nuove tecnologie innovative in un mercato che chiaramente ci è sempre stato quello delle costruzioni e delle progettazioni. La nostra consulenza e il nostro supporto in queste tematiche chiaramente non può che arrivare da persone relativamente giovani, chiaramente si parla di un team under 35 ma estremamente formato che comunque ha già 5-6 anni di esperienza su questo settore e quando dobbiamo andare alla ricerca di nuove professioni, nuovi talenti la formazione che facciamo internamente a loro è quello che ci dà quel valore aggiunto per far sì che tutto il nostro team sia in grado di supportare interventi anche molto complessi. Quindi il prospect per il futuro è sicuramente ottimo in quanto il processo BIM diventa sempre via via più conosciuto e sempre più strutturato, sempre più normato anche nel nostro paese e quindi essere riconosciuti diciamo come un player di riferimento anche solamente dei professionisti validi rispetto all'età che abbiamo chiaramente è certo è quello il motivo d'orgoglio principale Esatto, poi insomma giovanissimi e addirittura già formati per formare altri talenti quindi insomma ancora di più si va a unire a tutte le caratteristiche importanti che hai elencato in questo collegamento insomma mi verrebbe da dire Matteo, giusto? Esatto, esattamente Matteo, che dire, io ringrazio te per essere intervenuto naturalmente tutto sul tuo team ricordiamo Matteo Proia, CEO di B1P Group complimenti per questo riconoscimento e insomma ci auguriamo che ne possano arrivare tanti altri Vi ringrazio tanto Grazie, grazie, a presto Buona giornata, grazie mille Grazie, grazie a tutti